Buongiorno a tutti, sono Tullio Miscoria, Team Principal di RSI Italia. Da più di vent'anni mi occupo di formazione commerciale e manageriale e mi ritengo una persona fortunata e privilegiata per il lavoro che faccio. Ogni giorno, insieme ai componenti della mia squadra, prepariamo manager, venditori e collaboratori ad accrescere l'efficacia della loro azione, guidandoli nel rivalutare criticamente il loro operato, individuando aree di miglioramento e soprattutto rendendo facile applicare quanto condiviso in aula. Perché opera da tanti anni nello stesso ruolo, è facile che l'abitudine e la routine abbiano preso il sopravvento, venendo meno quell'accuratezza e quell'energia dei primi tempi. Noi ricreiamo motivazione, stimoliamo le persone a mettersi in sfida, a valorizzare il loro rapporto professionale ed è proprio dalle persone con i più alti livelli di responsabilità e di seniority che riceviamo i più lusinghieri apprezzamenti per la nostra capacità di attivare le persone, di rilanciare motivazione e focalizzazione sui risultati. Credo che l'efficacia dell'azione derivi da tre fattori. Chiarezza di idee e la capacità di reagire con tempestività è fondamentale negli attuali contesti. Allenamento. È l'allenamento che ti rende reattivo e tonico, pronto per le sfide. Concentrazione e pensiero positivo perché spesso è l'ansia da prestazione e la frenesia che ti porta a sbagliare. HI Business Training è il nostro modello formativo, finalizzato non solo ad affinare, allineare e arricchire le competenze, ma soprattutto ad incidere sui risultati. Come manager prima e poi come trainer e come coach, ho scoperto che ero bravo ad attivare le persone, a metterle in sfida, ad operare con grande efficacia ed energia per conseguire obiettivi importanti. Credo che la professionalità si evidenzi proprio nella ricerca dell'eccellenza. Come nello sport non basta essere bravi, bisogna allenarsi per essere efficaci e migliorarsi anche in quegli aspetti di dettaglio che sono quelli che poi fanno la differenza. Sono da sempre un appassionato di sport motoristici. Quello che noto è che piloti con mezzi inferiori riescono comunque a vincere qualche gara e a posizionarsi bene in classifica. Certo, per vincere il campionato del mondo serve una squadra di eccellenza, ma è bello vedere quando il pilota, come un manager o un venditore, è l'elemento che fa la differenza. Vorrei raccontare a voi che guardate questo video i risultati che abbiamo ottenuto anche con le aziende del vostro settore. Spiegarvi le attività di ricerca e sviluppo che svolgiamo ogni anno all'interno delle Sales Academy e delle Corporate School con le quali collaboriamo, nonché l'attività pubblicistica che svolgiamo per alcune importanti riviste di settore. Tutto questo per avviare anche con voi una collaborazione per accrescere l'efficacia della vostra impresa.